La sesta puntata di Temptation Island preannuncia di essere ricca di colpi di scena, nessuno si sarebbe aspettato questo dal conduttore . Temptation Island sta entrando nel vivo, il viaggio nei sentimenti delle coppie diventa sempre più intricato al punto che Filippo Bisciglia nella prossima puntata dovrà compiere un gesto mai fatto nella storia del reality delle coppie Nessuno si sarebbe aspettato dal conduttore un comportamento del genere e invece è stato costretto a farlo La puntata di Temptation Island andrà in onda martedì 15 ottobre e pare che ne vedremo davvero delle belle, tra le tante ci sarà questo gesto inaspettato di Bisciglia che lascerà senza parole uno dei concorrenti Anticipazioni Temptation Island, cosa accadrà.Martedì 15 ottobre la puntata di Temptation Island preannuncia di essere davvero bollente, protagonista di questo appuntamento sarà Filippo Bisciglia che dovrà compiere un gesto inaspettato, mai avvenuto nella storia del programma Sappiamo che Mirko, che non ha voluto il falò di confronto con la fidanzata nella precedente puntata, deciderà di fare un'esterna con Alessia Il suo desiderio è quello di conoscere meglio la tentatrice, anche per capire a che punto è la sua storia d'amore Intanto, però, la fidanzata richiederà un falò di confronto immediato e costringerà il conduttore a interrompere l'uscita del suo fidanzato con Alessia Vedremo Bisciglia raggiungere l'imbarcazione dove si trovano Alessia e Mirko con un'altra barca, una volta raggiunto il ragazzo gli dirà la decisione di Giulia e lui dovrà scegliere se accettare o meno questa richiesta, cosa che scopriremo martedì sera Intanto si tornerà a parlare di Titti e Antonio, la ragazza vedrà le immagini del suo fidanzato con la tentatrice che la faranno molto arrabbiare Ma la giovane ha una sua idea, non vuole alcun falò di confronto perché vuole vedere fino a che punto arriva il suo fidanzato, fino all'ultimo deve stare così, dirà uscendo dal picnic dopo aver visto le immagini scioccanti Non mancherà l'ennesima delusione di Michele che vedrà la vicinanza di Millie a un tentatore, altra cosa che lo farà soffrire molto La puntata di Temptation Island che andrà in onda martedì 15 ottobre, quindi, sarà ricca di colpi di scena A quanto pare molti nodi verranno al pettine, Mirko dovrà decidere se rifiutare il falò di confronto con Giulia, Titti si arrabbieranno un poco e anche Michele resterà molto deluso Non ci resta che aspettare la messa in onda di un appuntamento che sarà davvero avvincente